Sì, la cosa più importante è quella, insomma, sapete che guardiamo sempre all'aspetto fisico più che quello che può dire la partita, che sono dei test, insomma, giocati con squadre che non sono poi così impegnative, per cui quello ci serve solo per mettere qualche minuto nelle gambe, per trovare un po' di affiatamento con i nuovi specialmente e per cercare di progredire nel lavoro. Ma direi che è stato svolto un buon lavoro, insomma, non ci sono stati grandi contrattempi perché i giocatori che sono stati fermi oggi, Cigarini, Schelotto, Scozzarella e un altro e Gabbiedini e Almici, sono tutte cose di piccola entità, quindi nei prossimi giorni li avremo recuperati, per cui direi che la cosa più confortante è stata questa. Sì, ma ripeto, questa partita non è che gli non monta, non guarda tanto, sono partite insomma con squadre talmente di livello inferiore che, adesso ci sono mossi bene, sono sgambature queste partite. I test più attendibili li andremo a fare nelle prossime settimane. La sufficienza c'è piena perché hanno lavorato molto bene, la squadra è una squadra che ha voglia perché sapete benissimo qual è la nostra mentalità, insomma, il lavoro prima di tutto, la fatica prima di tutto, il sudore prima di tutto. Poi viene anche il reso e devo dire che la squadra da questo punto di vista risponde sempre bene. Un'altra nota positiva di questo ritiro è il pubblico, anche durante la settimana i tribuni sono piene. Sì, sì, questo ormai è una costante, veniamo apposta qui, sono strafelice di fare questo ritiro qui proprio per questo motivo perché c'è sempre gente, la gente si diverte, sta vicino alla squadra, quindi la cosa mi riempie di gioia da questo punto di vista. Chi è il più in forma? Io.